Siamo qui in compagnia ancora di altri partecipanti della corrida di Prato la Serra, conosciamole. Maika. E quanti anni hai? Sette. Tu come ti chiami? Antonella. Rita? Otto. Sara, dodici anni. Rita, dodici anni. Un bel gruppo, cosa ci presentate questa sera? L'ultima canzone di Britney Spears. In quanto tempo l'avete preparata? Chi vi ha aiutato? L'abbiamo fatta noi quattro da sole in un giorno. Complimenti! E parteciperete tutte quante, quindi dalla più piccola alla più grande. Ci vuoi salutare Campania Tube? Ciao Campania Tube. Ciao Campania Tube. Ciao Campania Tube.